L'unione è il Kofi Nam di Ego Tau E poi, per esempio, agli adulti che diciamo ai molti giorni In questo tempo che ci è concesso cercheremo di farvi vedere un pochino che cosa si chiama In segno, si chiama molti meno rispia molto basa Con quelle tecniche di calcio e di spu, di aggiunti la lotta col profondo e alcune armi In questa persona ne vediamo solo due, ci sono diverse anni. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.